Abbiamo 28 minuti e 58 per farlo. Mi devo mettere anche una maglietta. Ah, questo anche è rosso. Questo anche è rosso. Confrutta questo sì. Dai, inizio. Sì, cercare di stare sempre alto. Sennò farmi vedere cosa c'è sotto. Ok, partito. Ok. Ciao a tutti. Questo è il primo video di Shave My Bar Bap. Sono un idiota. È abbastanza. I giorni sono mezzo. Eh, minchia. I momenti, i momenti. Sì. Finalmente ti stai tagliando quella barba in colta. Dai, è vero. Posso migliorare in California? Mi sembro un barbolo. Spalato. Un idiota. Spalato. Penso che chi guarderà questo video lo sappia già. Sì, questo video ti sa che rimarrà nascosto. Solo per i più. Fortunati. Sì. Celeste saluta tutti intanto? Come saluto tutti? Giugira? Giugira la telecamera? No. Sì, parteciera anche dopo questo video emozionante. Ciao, gente. Mi si vedeva? Sì, sì. Ok. Due idioti. Sì, è abbastanza. Lei è mia sorella Celeste. Io. È nata in 2000, quindi sto per compiere 13 anni. Tu non sarai qui quando compierò 13 anni? No, c'è la cestina ma ci sarò con il cuore. C'è la Lucilla? Che sei un umano? Ok, stai... Start my barbuff. Poi, sei giusto sparami... ...ben in bocca. E' così che sembra il Sergente Garcia? No. No, eh? Quindi bacchi? Ah. Aspetta, fatti tipo Hitler? Ma no. Perché? Qui te lo tagli. Questo è un video... ...politica di... ...corretto. ... 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 Mi ha fatto un ballonno, che ne pensi? Beh, sì. Non ho quanti peli? Eh beh, spero che laverai ora, questo è il mio bagno. Certo. Questo è stato il primo video di Shave My Bar Bap. E il prossimo sarà fatto in camifaria. Senza di me, sfortunatamente. No, no. Che culo. Va bene. Grazie Celeste, saluto il pubblico, salutiamo il pubblico. Vabbè, dai. Ciao a tutti. Ciao ciao.